dal salone delle feste del casinò di sanremo trasmettiamo la prima serata del festival della canzone italiana l'orchestra è diretta dal maestro angelini non bisogna dimenticare non dimentichiamo che la vera protagonista i cantanti mi scusino ma è stata l'orchestra del maestro angelini nunzio io devo chiudere questo collegamento con grandissimo mal in cuore che ho visto poco fa al generale doger è tornato a casa ha potuto fare il suo regalo di natale noi le siamo felici e siamo grati agli uomini agli italiani agli uomini della forza dell'ordine che gli hanno consentito di tornare a casa siamo veramente felici dunque dove eravamo rimasti potrei dire moltissime cose e ne dirò poche una me la consentirete molta gente ha vissuto con me ha sofferto con me in questi terribili anni molta gente mi ha offerto quello che poteva per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai e questo grazie a questa cara buona gente dovete consentirmi di dire sì in mezzo alla gente poi c'è l'autista e magari l'ha salita l'autista in macchina ma se l'autista l'hai scelto a te un po' così per essere tranquilla no casomai può essere l'autista che ha salito un ferroviere buonasera dottore pensate che questo gruppo il gruppo fin invest è l'unico gruppo che non ha licenziato nessuno mentre in questo momento ci sono tanti licenziamenti e lo sapete voi che mi ascoltate in questo momento quanti di voi molto probabilmente andranno in cassa integrazione berlusconi non ha mai licenziato nessuno vanno via quelli che vogliono faccio il contratto a vita a vita sì no no basta la parola oggi la successo che a natale sì non è arrivato il rinnovo del contratto gruppo è il figlio per silvio non è arrivato niente ha detto ma come mai non è arrivato niente allora ho chiamato un funzionario l'ho fatta per fare un dispetto che bello che senta per mamma e papà è arrivato nienteきますi l'ho fatta per mamma e papà ållo l'ho fatta per mamma e papà ma non è arrivato 2 dimolti l'ho fatta per mamma e papà eva Grazie. 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 Grazie.